Tere spettatori carissimi, eccoci qua, siamo tornati con un'altra intervista, un altro approfondimento, vi presento subito il nostro interlocutore Federico Dallarosa, scrittore, psicologo del lavoro, vignettista, caricaturista, che altro possiamo dire? Fermiamoci qua, per pietà. Anche ex cabarettista, anche un passato di questo tipo, va ricordato. Questo perché? Perché in virtù della sua formazione professionale e di studi, ma anche operativa, perché attualmente fa anche dei corsi di formazione rivolte a persone, a varie persone, ha deciso di dedicarsi tempo addietro a studiare la psicologia delle dinamiche di relazione e di interazione dei ragazzini un po' bulli, diciamo così. E aveva scritto uno simpatico manuale, sempre con delle illustrazioni, per riuscire ad approcciare a queste problematiche. Poi si è spinto oltre e adesso in un momento che proprio cade, purtroppo dico io a fagiolo, dinamiche di coppia e quindi perché non dar vita a un manualetto che in realtà non è in carta? No, esatto, è un ebook, purtroppo è un ebook e non è un manuale, un saggio, è un libro test, è un gioco test per valutare la compatibilità di coppia, fondamentalmente è un ebook divertente. Divertente, però dietro il divertimento che lo coglieremo a pieno perché è sempre simpatico, vedremo anche le illustrazioni con la tua abile mano e le abile vignette, c'è un tema molto importante. Certo, c'è assolutamente, infatti il mio editore Marco Mari di Festina Rente Edizioni è stata una sua idea, voleva fare lui un libro test per le coppie e voleva che fosse divertente, per cui visto che io ho le entrambe le formazioni, cioè sia l'umorismo che sono psicologo, allora ho detto mettiamo, è il primo libro che sfrutta le mie due competenze, due ne ho e quindi per cui sia utile, seppur in maniera scherzosa, sia spassoso e… Come si intitola? Vediamo un po' la copertina anche… Allora, si intitola Io e Test, lo trovate su tutti i bookstore online, anzi è in ottima posizione in classifica sulla classifica di Amazon ed è appunto gioco test per tutte le coppie, intendo tutte le coppie perché a parte le vignette che sono le classiche vignette mainstream su marito e moglie, ma il testo del test è stato scritto in maniera tale che fosse utilizzabile anche dalle coppie gay, in questo modo mi sembra giusto che anche una coppia gay vuole divertirsi a fare il suo test di coppia… Per capire se c'è la compatibilità, questa è una cosa interessante, poi entriamo anche nel merito dei vari capitoli, dei vari temi, quanto manca a volte comprendere quando c'è questo innamoramento, queste fasi iniziali, se due persone che si incontrano, si piacciono eccetera, poi sono compatibili nella vita o se dopo una vita insieme c'è ancora la compatibilità o bisogna lavorarci dietro un pochettino? Allora diciamo che all'inizio è una favola quella del cosiddetto colpo di fulmine, il cosiddetto amore a prima vista, sono delle bellissime favole che è bello raccontarsi, però che non hanno niente a che vedere con la realtà, all'inizio è attrazione fisica… Anche biochimica… Anche chimica, certo, anche intellettuale per quello, però da questo a creare un rapporto di coppia stabile, gratificante, ce ne vuole, questo richiede tempo e impegno. Eh infatti, e nessuno lo insegna questa cosa qua? Il problema è questo, fondamentalmente, il problema fondamentalmente, si parla di crisi di coppia, credo negli anni 70, 60 c'erano i film con Montesano, con Pozzetto, la crisi della coppia, ecco, il problema è che non c'è un'adeguata educazione allo sviluppo della nostra intelligenza emotiva, cioè a comprendere quello che… come gestire le nostre emozioni. Se insegnassimo, e adesso lo stiamo facendo per fortuna, se insegnassimo sin da piccoli questi meccanismi, ovviamente adattandoli allora, oggi per fortuna nelle scuole primarie, nelle scuole, proprio i primi anni, le nostre scuole italiane sono all'avanguardia da questo punto di vista, assolutamente. Gli insegnanti delle scuole elementari, io le chiamo elementari perché… Vabbè, per intenderci dai, ho una certa età, sono all'avanguardia, insegnano l'intelligenza emotiva, insegnano i nostri bambini a gestire le loro emozioni, tutta cosa che… a noi, a me e te, chi è che ce le ha insegnate queste cose qua? Ci insegnavano la matematica, la storia, la geografia e restavamo completamente ignari di quello che invece è una parte fondamentale della vita, cioè costruire un rapporto di coppia che funzioni. Ma secondo te, lo dico anche alla luce delle interviste che ci sono anche in precedenza a questa fatta con te, che mi piace proprio fare perché dà una sorriso su tematiche molto difficili. Adesso le dinamiche di coppia sono messe in discussione da atti anche di violenza, di comportamenti che esulano completamente dalla normalità. Questi bambini educati in questi termini, e te lo chiedo perché tu sei anche formatore per i più piccoli e vedi le dinamiche di… Certo, certo, non spesso. Se fosse ovviare in futuro a generazioni che si vedono adesso nelle nostre generazioni, quelli un po' più vecchiotti. Io credo che le generazioni di bambini che oggi, bambini e bambini che oggi sono alle elementari e anche alle medie, anche alle medie, saranno persone migliori da questo punto di vista, in grado di gestire meglio le emozioni. Almeno conoscere le tecniche per poter gestire. Sì, sapere che è un argomento di tutti i giorni, che è un argomento importante che va affrontato, che non va evitato. A noi insegnavano devi trovare il principe azzurro, la principessa rosa e adesso invece iniziano a spiegare che le relazioni sono una cosa che richiede impegno, richiede già le relazioni anche fra amici, anche amicali, richiede un impegno. Io poi sono specializzato nelle relazioni fra colleghi di lavoro. Bravo, perché sei consulente. Io mi occupo principalmente di questo, insomma. E lì è un po' come fra marito e moglie, perché alla fine lavori tanti anni insieme, stai sempre insieme e alla fine spesso si trova una persona che si trova che ha il partner al lavoro e ha il partner a casa quando torna a casa. Quindi le tensioni si creano. Ma è più difficile sanarle in luogo di lavoro? Adesso che vieni anche da diverse ore di formazione. Sono, sì, raduce da sei ore di formazione individuale in una bella azienda. Oppure, perché sono appunto relazioni belle impegnative, effettivamente si passano tante ore in luogo di lavoro, quelle di coppia sono più facilmente gestibili quelle sul lavoro, assolutamente. Lì non si gioca sul personale? Si gioca un po' sul personale, ma fino a un certo punto, insomma, lì con le competenze comunicative di base, se la possono cavare tutti. Anche quello comunque siamo in ritardo, perché la formazione, le aziende ancora non investono nella formazione, non ci credono. Adesso con il nuovo PNNR speriamo che qualche fondo sia dedicato a questo tipo di formazione, eppure la cosa paradossale è che tutte le grandi università del mondo, Harvard, aiutami quell'altra americana, Oxford University, brava, anche tutte quante mettono come prima competenza per avere successo nel lavoro lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. Ah, caspita, sì, sì, infatti è in materia di insegnamento tra l'altro. Ed è in materia di insegnamento in tutto il mondo. Ma viene, diciamo, curata nelle grandi realtà, nelle multinazionali. Sì, beh, è chiaro. Noi che siamo un territorio di piccole e medie aziende. Siamo un territorio di frontiera. Di frontiera, esatto. E quindi questa cosa qui non viene assolutamente presa in considerazione, il fatto che persone che passano otto ore al lavoro non abbiano delle emozioni, insomma. Non fanno fatturato, non hanno fatturato. No, ma invece in realtà gestendo le emozioni, aiutandoli a fare team building, aiutandoli a sopportarsi meglio, caspita, il fatturato cresce. Perché c'è un benessere. L'efficacia... Cioè, il benessere aziendale, che è una cosa... Adesso si parla tanto di welfare aziendale, che è fatto appunto di un benessere umano, no? Sì, però il benessere aziendale non deve esserci il calcetto, balilla nelle pause o la cucina. Bisogna risolvere i problemi reali. Prima cosa, per esempio, gli asili nelle aziende. Cioè, questi sono i problemi reali. E... Apriti cielo. Apriti cielo. Aiuto. Allora, entriamo nella dinamica ancora più sottile, invece quelle più di un po' più difficili. Ah sì, perché noi parliamo di copie. L'ebook, io e test, disponibile su ogni bookshop online, parla di... È un gioco test per le copie. Io devo ancora vederlo. Male, male, perché pensavo che gli amici, almeno gli amici, lo acquistassero. Ma quell'investimento è pesantissimo. Esatto, costa, tra l'altro, costa 99 centesimi, proprio perché possa arrivare a più persone possibili. Ma io confidavo che ci fosse la coppia cartaccia, che mi piace tanto. Eh, lo so, lo so. Sono una cosa della vecchia generazione. Cassetto, mi tocca... Vabbè. No, ma il bello è troppo quello che abbiamo fatto in ebook, perché è interattivo. Cioè tu... Eh, bravo. Cioè la domanda, clicchi su una delle due alternative, vai alla domanda successiva. Infatti, come funziona. Qui, almeno in carta, mi sono stampata i titoli dei vari paragrafi. Vediamo un po'. Uno entra in questo mondo per scoprire... Si fa insieme al compagno, alla compagna? Si può fare da soli, si può fare con la compagna o il compagno. Si può fare... Ed è un momento di... Ecco, questo per esempio è una vignetta che c'è nel capitolo dedicato alla gelosia. Non ti sembra un po' invadente il tuo ex? Questo è per alleggerire l'argomento e vediamo se ci sono una serie di domande che portano a quattro profili diversi. Ovviamente c'è il profilo di chi è più geloso, chi lo è meno, chi lo è e chi non lo è per nulla. E poi ci sono anche delle facciotte che misurano il grado di... Per esempio, eccola qua, questa invece appartiene al capitolo dedicato alla litigiosità. Però è una facciotta che fa capire quanto... Esatto, qua siamo a metà strada più o meno, insomma è una persona litigiosa ma che ha ancora possibilità di controllarsi, insomma, secondo il profilo di questo e-book. Ecco, è toccato l'argomento gelosia, è un argomento caldo perché purtroppo è uno dei fattori che fa veramente scoppiare la coppia, nel senso che poi può portare anche degli atti molto violenti, delle reazioni che vengono sottovalutate, questa è la cosa più importante, dal partner debole tante volte, che giustifica l'altro nelle sue reazioni di gelosia esasperata, anche con male parole, per carità, però le sottovaluta fino ad arrivare a dei punti di non ritorno. Che cosa, che sintomi hai analizzato? Quindi dietro le quinte, no? Certo, beh, allora innanzitutto è importante specificare bene questa cosa qui perché poi hai visto con la Palombelli è venuto fuori il disastro. Sicuramente qualsiasi tensione all'interno di un rapporto di coppia è dovuto ad entrambi, entrambi gli elementi di una coppia sono responsabili di quello che succede nel bene e anche nel male, però bisogna anche dire che quando si arriva a una cosa come un omicidio, in questo caso un femminicidio, perché sono quelli che sono aumentati sempre di più, non c'è una giustificazione, non c'è una motivazione. Io mi sorprendo sempre quando nel Tg dicono uomo entra in casa, fa strage di moglie, figli, uccide i vicini di casa e anche quello che passava sotto casa col cane per portarlo a far pipì, ci si domanda le ragioni di un simile gesto. Ecco, questo di solito è la frase che conclude ogni servizio su questi argomenti. La ragione di un simile gesto è che si ha a che fare con un sociopatico, con uno psicopatico. Non è che c'è da andare tanto a capire, perché uno che commette anche un omicidio su commissione, anche nella criminalità organizzata, chi poi compie gli omicidi non è tanto stabile mentalmente, insomma. Quindi bisogna partire dal presupposto che ci sono degli individui instabili mentalmente. In cui però la persona non si accorge. Quello che lascia smarriti è che al di là degli vicini di casa che vengono interpellati, mi sembrava un'ottima persona tranquilla. È classico, no, ma era una persona così... Straordinaria, sorvidente, le salutava, vabbè. Ma il partner stesso per anni non si è reso conto o per anni non ha voluto vedere? Quindi quello che voglio capire... No, non è che non ha voluto vedere, è che non c'è, non siamo in una cultura che parla di queste cose. E quindi torniamo al discorso iniziale. Esatto. Non c'è un'educazione, non solo ai sentimenti e alle emozioni, ma anche all'analisi della malattia psichica. Purtroppo la malattia psichica ancora, che è il prossimo Covid, posso già anticiparlo, il prossimo pandemia sarà anche proprio in conseguenza quello che abbiamo dovuto affrontare. Le prossime ondate saranno... Sono le devianze. Il problema della malattia mentale non se ne parla. Perché ancora è un tabù. Perché ancora è un tabù. Una vergogna, esatto. È un tabù. Il marito che soffre di depressione, la moglie che soffre d'ansia, l'amico che soffre di... Io qua lo dico apertamente, se può aiutare, io soffro di ansia da sempre. Quindi... Si che lavori in un mondo dove... Eh beh, basta curarsi, eh. Cioè, basta curarsi. Quindi sei l'esempio eclatante di chi... Se uno ha mal di denti, se uno ha mal di denti, cosa fa? Va dal dentista. Se uno ha mal di stomaco, cosa fa? Va dal gastroenterologo. Se uno ha il Covid, va nel reparto a farsi il tampone. Perché se uno ha delle fragilità che poi sono degenerative. Quindi, se prese in tempo, si curano. Se non prese in tempo, possono degenerare in... Quindi è facile che il partner accetti delle piccole instabilità umorali, semplicemente perché dice, Vabbè, magari non è niente di che... Poi le cose crescono. Esatto, infatti. Si tende a voler aiutare la persona a cui vuoi bene. E poi, fino a quando non esplodono in un momento di... E a quel punto non si può più gestire. Per cui il problema non è del partner che non se ne accorge. Il problema è una cultura che non ne parla. Che non ne parla. Non ne parliamo apertamente. Ci vergogniamo del disagio mentale. Ci vergogniamo dell'assunzione di psicofarmaci. Ancora adesso gli psicofarmaci. Ci imbottiamo di qualsiasi cosa. E poi i psicofarmaci. Adesso abbiamo dovuto fare un lavoro micidiale. Ci stiamo ancora per convincere la gente che il vaccino è necessario. Fatevi sto vaccino perché non se ne può più. E la stessa cosa dovrebbe essere fatta con gli psicofarmaci. Che possono quindi aiutare la persona a relazionarsi anche in modo più sereno nell'ambito della cosa. Assolutamente. Cioè dal lavoro che avete fatto, che hai fatto, o che avete fatto, non so se è stato un lavoro anche di equip, di collaborazione con altri, eccetera. È emerso che certe dinamiche di coppia difficili da sostenere potrebbero essere guarite con l'utilizzo di un supporto psicologico adeguato, con una terapia. È letteratura di base della psicologia. Cioè credo che sia il primo anno di università. Solo che dovrebbe essere su tutti... Ma quando la coppia va dallo psicologo, ahi noi, vuol dire che già è su loro. Per carità, no, assolutamente. Lo sai benissimo. Di solito la coppia, cioè chi è più magari equilibrato, vede magari qualche segnale, andiamo in terapia di coppia. Per carità. Ma dall'altra parte, e qui bisogna essere anche un po' attenti, c'è una preparazione, proprio perché non abbiamo la cultura del parlarne, dell'affrontarlo, ed è tutto qualcosa di emergente. Ci sono professionisti che sono in grado di affrontare queste questioni. Perché la paura, come hai fatto l'esempio corretto del vaccino, no? Quello è il timore di molte persone. Che non possa, può sortire effetti o possa fare del male addirittura. Psicofarmaco può far più male che non bene, oppure mi crea una dipendenza che mi può far male. E lo stesso timore così anche rivolgersi a certi professionisti. Tanto non serve a niente, perché questo poi è il convincimento. Certo, certo, ma io spezzo una lancia nei confronti dei miei colleghi. Io non posso, magari in televisione adesso penseranno, eh lui lo dice, perché così può vendere psicofarmaci. Ma non vende niente. Io sono uno psicologo del lavoro, io non posso prescrivere psicofarmaci. Quindi non lo faccio per interesse personale, lo faccio per interesse etico. Cioè sono altri miei colleghi in ospedale, in qualsiasi ospedale ci sono, soprattutto qua in Veneto, abbiamo degli straordinari psichiatri, psicologi. In presenza di patologie bisogna far si curare, insomma. Assolutamente. Hai primi segnali che qualcosa non va. Hai primi segnali che qualcosa non va. E può essere di aiuto. Allora, continuiamo con Fred, Federico Dallarosa, Dottor Federico Dallarosa, a raccontare le dinamiche di coppia, in modo anche molto simpatico. Quindi entriamo sempre più nel merito di questo e-book. E-book, dopo la pubblicità, tra poco.